Ciao ragazzi, un saluto speciale ai tutti i tifosi della Nocerina e ai tutti i supporti rossi e neri, lo so che è un campionato difficile, però ci vuole coraggio, non bisogna volare mai, io lotterò insieme a voi perché porta Nocerina nel cuore, a me mi avete dato tanto e vi porto sempre nel cuore, forza Nocerina, forza ragazzi eh! Grazie a tutti!